Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di lunedì 20 gennaio 2020. Questa è la rassegna stampa di Fano TV e questo è l'appuntamento del mattino delle 7 con i giornali. Tra poco vedremo il resto del Carlino, il Corriere Adriatico e lo faremo tra un istante con l'aiuto del nostro touchscreen. Come di consueto diamo uno sguardo anche ai Santi del giorno, ne approfittiamo anche per magari fare qualche augurio di buono nomastico. Potremmo fare gli auguri per esempio a quelli che si chiamano Fabiano, è stato un papa e anche martire, ma è anche San Sebastiano. Il sole sorgerà alle 7.38 e tramonterà un minuto dopo le 17. E allora andiamo a vedere adesso il tempo. Questa è la copertina di trebimeteo.com, il nostro partner se vogliamo con il quale ci scambiamo informazioni, ma prendiamo le informazioni anche meteorologiche sia sulla televisione, sul canale 17, ma anche sul nostro sito internet occhialanotizia.it. Oggi titola così la prima pagina di trebimeteo.com Italia contesa tra correnti fredde e vortice mediterraneo, piogge e locali nevicate, nuovo stop all'inverno, dunque non decolla perché arriverà un'alta pressione da martedì che porterà di nuovo bel tempo. Per quanto riguarda invece il tempo sulle Marche, oggi la protezione civile prevede un cielo irregolarmente nuvoloso con maggiore copertura nel settore settentrionale della regione, delle nevicate anche intorno ai 700-800 metri al mattino con rovesci sparsi anche nel centro, così come sulla costa a carattere di pioggia, ma credo che si stiano esaurendo. Durante la mattinata avremo un po' di raffiche di vento fresco lungo la costa, di conseguenza il mare sarà molto mosso e mosso nel pomeriggio. Per domani invece, martedì 21 gennaio, avremo un cielo irregolarmente nuvoloso con temperature in diminuzione e estese gelate al primo mattino. Il tempo, come dicevamo, per effetto della nuova alta pressione che entrerà in azione nel giro di qualche ora a partire da domani, porterà tempo stabile per tutta la settimana. Monte Ciccardo dunque ha votato sì e si fonderà con Pesaro. Dunque è prevista per stamattina una conferenza stampa del sindaco Matteo Ricci per illustrare un po' i dettagli. Quello che adesso conta è il risultato che tra poco vedremo in termini numerici con un paese, più di mille anime, insomma, che ha deciso per una questione anche economica, soprattutto, di fondersi con la città capoluogo. Questa è la notizia del giorno, ma ce ne sono anche altre che adesso andiamo a vedere con i giornali. Il commercio artigianale e quindi l'economia locale apre così il Corriere Adriatico, l'edizione di Pesaro. Il commercio, dicevo, artigianale ora a rischio di estinzione parlano in particolare i panettieri, quelli che fanno il pane ogni giorno, che dicono siamo soffocati dalla grande distribuzione, cioè dai centri commerciali. E poi c'è anche un altro problema, che fare il pane significa lavorare di notte. E lavorare di notte a molti giovani di oggi, insomma, i giovani di oggi non piace. E di conseguenza c'è proprio un problema anche legato a chi fa il pane, non solo chi lo compra, che invece preferisce comprarlo, acquistarlo nei grandi centri commerciali. A centro pagina, invece, è lo sport del lunedì. Con la VL siamo alle solite e già il titolo fa capire che, insomma, non è andata bene per quanto riguarda l'incontro contro Sassari. Sassari troppo forte e vince 107-82. La vittoria, dunque, di Bologna dimenticata. Il coach della VL, Giancarlo Sacco, ha cercato di spronare la sua squadra. Ieri, che però, è stata poco reattiva. Invece il Fano, il Fano per un po' ha sognato di portare a casa altri tre punti. In realtà, poi, è stato raggiunto dal Ravenna il risultato finale 1-1. L'Alma di Juventus Fano, che ha strappato un buon pareggio al Benelli di Ravenna, sognando per un po' appunto il colpaccio, visto che i Granate erano passati in vantaggio con Carpani e sono stati raggiunti solo in ripresa inoltrata. Sotto, invece, tornando a Pesaro, sulla pagina sempre del Corriere Adriatico, si parla dei nuovi dirigenti comunali. Parte l'era del dopo Frugis, Frugis che si è andato, ha detto, vada a fare altre esperienze e adesso verrà sostituito. C'è già stata un'altra sostituzione, però adesso Claudio Chianese, segretario generale, si apre la selezione per un'altra figura apicale. Quindi, dunque, coperta la casella mancante del segretario generale, individuato nella figura di Claudio Chianese, con il decreto firmato due giorni fa dal sindaco, ora bisogna chiudere un altro tassello. E dunque parte la selezione per un nuovo capo dei conti pubblici del comune di Pesaro, dopo che Frugis appunto se n'è andato. Oggi c'è la direzione del PD, un confronto sui candidati alle regionali, dopo che, come abbiamo visto nei giorni scorsi, il Movimento 5 Stelle, per bocca del capo politico Luigi Di Maio, ha detto che nelle Marche i 5 Stelle correranno da soli o comunque collegati a delle liste civiche e non ai partiti, come invece accade a livello nazionale. Ma di spalla c'è un articolo molto interessante che riguarda una trattativa, una trattativa che Sgarbi andrà a portare avanti a Parigi, niente meno che a Louvre, dove tratterà un quadro straordinario. Ve lo faccio vedere subito, così poi andiamo a leggere il pezzo. Guardate che spettacolo, che meraviglia questo quadro, gli occhi di questo dipinto, che è attribuito, è di Raffaello, ed è un pezzo forte di questa mostra intitolata Raffaello e Baldassare Castiglione, quello è il ritratto di Baldassare Castiglione che vi ho fatto appena vedere, che sarà allestita nelle prossime primavere d'estate a Durbino. Potrebbe essere un capolavoro della ritrattistica di tutti i tempi, un'opera superba di Raffaello Sanzio che suggellerebbe in modo perfetto a 500 anni dalla sua morte il tema dell'esposizione curata da Vittorio Sgarbi e dedicata alla cultura rinascimentale, in particolare alla corte dei Montefeltro, ovvero questo ritratto di Castiglione, autore dell'opera letteraria Il Cortegiano, eseguito dal suo amico Raffaello. Per trattare questo prestito, dell'olio su tela detenuto dal Louvre, appunto a Parigi, Vittorio Sgarbi è volato nella città francese, portando con sé, per conto del Ministero dei Peribeni Culturali, a proposta di uno scambio, uno scambio con la muta conservata sempre al Palazzo Ducale di Urbino. Ed eccolo ancora qua, questo ritratto straordinario. Guardate gli occhi da casa, si vede bene, sì, nel televisore si vede perfettamente. Allora, adesso invece il Carlino di Macerata, con gli scontri tra i tifosi, a fine partita, Re Canatese e Montegiorgio, un militare che è stato colpito alla testa, ma la fotonotizia è per l'imprenditore agricolo Simone Fatto Bene, che rappresenta un po' tutti gli imprenditori che si sono dedicati alle aziende agricole in questi ultimi anni, aziende agricole che sono sempre più gestite da persone giovani, come appunto è questo Simone Fatto Bene, giovani sotto i 35 anni. Ma nella cronaca di Ancona, e questa è la fotonotizia del Carlino, c'è la tragedia che si è consumata nella giornata di ieri, la scomparsa dell'industriale metallo-meccanico Sandro Paradisi, che è morto mentre andava in bicicletta. Iesi è la provincia dunque sotto shock per la scomparsa dell'industriale metallo-meccanico, stroncato da un infarto a 60 anni lungo i tornanti di Staffolo, il cordoglio di politici e di imprenditori. E a centro pagina invece il Carlino di Pesaro apre con, inevitabilmente con la fusione per incorporazione di Monteciccardo. Pesaro si prende Monteciccardo, questo è il titolo, referendum vince il sì, disco verde alla fusione, nel capoluogo sono andate alle urne 5.498 persone con l'83% di voti favorevoli nel paese, l'incorporazione passa con il 79,2%, Ricci dice subito al lavoro per i 1.641 cittadini in più. Esatto, perché sono 1.641 i cittadini di Monteciccardo che adesso saranno governati dal sindaco Matteo Ricci e dalla sua giunta. Il segretario invece del Partito Socialista Italiano a Fano fa una proposta, cioè di intitolare una via a Bettino Craxi. Evidentemente anche questo film che è nelle sale cinematografici in questo periodo a Mamet che ripercorre la vita del segretario appunto del PSI, Craxi ha riacceso un po' gli animi e i sentimenti e dunque si torna un po' alla carica. È stata un po' rivalutata anche la figura di Bettino Craxi. Quindi gli si può intitolare una via anche a Fano. Un ex dipendente invece parla dell'inquinamento ex AMGA. Tutti sapevano, siamo nell'area ex AMGA appunto di Pesaro. Ma sempre a Fano la cronaca con un assalto, un assalto avvenuto con un cassonetto per rubare all'interno di un negozio. Il negozio è della Vodafone. Siamo su Via Roma. Vedremo tra poco i particolari. E poi sotto lo sport con il calcio. Carpani lancia il Fano, Merravenna rimonta. Abbiamo visto 1-1 il risultato finale. Il basket, Sassari domina. La VL torna giù dopo la vittoria contro la Fortitude di Bologna. I biancorossi affondano di nuovo in casa. Questi sono i numeri invece del voto ieri sul quesito se favorevole alla fusione per incorporazione del Comune di Monte Ciccardo e del Comune di Pesaro. I risultati. I pesaresi hanno votato sì 4.544. Se consideriamo che sono 80.000, quanti sono i pesaresi? 4.000 voti è praticamente nulla. Quindi evidentemente non erano molto appassionati da questo referendum. Comunque no 932. A Monte Ciccardo invece, dove la questione chiaramente era molto più sentita, hanno votato sì 647 persone, no 169. Dunque vince il sì. Pesaro, Monte Ciccardo, il matrimonio si può fare. Fumata bianca a questo referendum. La cosa è fatta. C'era da dire però che l'accordo era che se uno dei comuni fosse contrario, tutto veniva messo nel cassetto e quindi la fusione non si sarebbe fatta. In realtà, alla fine, tutti hanno votato per hanno votato ed è passato il sì, quindi la fusione è dunque realtà. Siamo sulla pagina di Fano invece del Corriere Adriatico. Ora combattiamo l'evasione, dice Luciano Cecchini, del Presidente, coordinatore degli albergatori fanesi. Finanziamo poi solo il turismo. Il Presidente chiede correttivi sull'uso della tassa di soggiorno e dunque pagare tutti per vincere la concorrenza sreale e soprattutto assegnare più risorse al settore del turismo a Fano. Se la nuova metodologia di riscossione della tassa introdotta dall'amministrazione comunale perseguirà questi obiettivi, gli operatori si ritengono soddisfatti. Come noto, dall'inizio dell'anno, la riscossione in passato era affidata all'ASET, adesso è tornata direttamente nelle mani del Comune con il risparmio di 50 mila euro di agio. Stiamo parlando della tassa di soggiorno. D'ora in avanti non si potrà più comunicare l'avvenuto pagamento con la tradizionale modalità cartacea, ma lo si potrà fare utilizzando esclusivamente un nuovo portale internet e quindi in maniera totalmente digitale. Cecchini è favorevole alla riscossione diretta da parte del Comune e dice concordiamo però gli eventi con questi soldi della tassa di soggiorno da pagare. Ora, non so se c'è scritto qua in questo articolo, ma mi sarebbe piaciuto dirvi, anche perché è giusto, quanto paga uno, un turista, che viene e soggiorna a Fano di tassa di soggiorno, perché poi ogni città ne applica uno. Io per esempio vado a Roma, spendo 3-4 euro, tantissimo. Mentre, non so, adesso qui non lo vedo, non l'ho visto, ma non so quanto si paga per soggiornare a Fano, come tassa di soggiorno. Poi magari ve lo dirò domani. Grande festa per la benedizione degli animali. Invece ieri c'è stato questo appuntamento in piazza 20 Settembre, così come in tantissime piazze italiane. L'appuntamento è con il Santo Sant'Antonio Abate, il protettore degli animali. Oltre a ritrovi in piazza, ci sono state celebrazioni e un corteo con il Vescovo anche a Carignano. Tutti soddisfatti. Stasera vi faremo vedere anche noi un servizio che abbiamo realizzato ieri in piazza. Sanzioni contro chi pratica mobbing. Roberto Rossini rilancia l'iniziativa di Lara Ricciati. L'ex deputata dice bene, magari potevo essere avvisata. L'onorevole dice lo spunto è stato preso dai militari. Il testo della proposta di legge del pentastellato è più articolato, ma ricopia l'aspetto penale. La proposta di legge di Rossini ipotizza la nascita di centri regionali per prevenire, diagnosticare e curare i disturbi da disadattamento lavorativo. Dovrebbero essere dotati di un adeguato organico e diretti da uno psichiatra, dunque da uno specialista. Città della pace dei ragazzi sul messaggio di Francesco. È stata celebrata sabato la giornata della pace organizzata dall'azione cattolica diocesana di Fano, dalla Caritas e dall'associazione Papa Giovanni XXIII insieme agli scout d'Europa. FSE in collaborazione con il Comune di Fano e il Laboratorio Città dei Bambini. Purtroppo il maltempo ha impedito a questi ragazzi di fare un corteo che era programmato dal Pincio di Fano fino alla Chiesa di Santa Maria Nuova, però alla fine è andata bene lo stesso. Tutti si sono ritrovati in una sfera un po' più intima. Un centinaio di bambini provenienti da Fano e da tutto il territorio diocesano, quindi Pergola, San Lorenzo in Campo, Fossombrone, così come altre località, i più piccoli si sono radunati nel centro pastorale di Via Roma. Mentre da Fano, la pagina del resto del Carlino, si occupa da spazio in particolare a questa proposta di Pagnetti, il segretario del Partito Socialista locale, che dice intitoliamo una via a Bettino Craxi, una strada, una piazza cittadina vista la grande tradizione socialista fanese. A vent'anni dalla morte del leader socialista arriva questa proposta di Mirko Pagnetti, ricordarlo, dice, è un riconoscimento al ruolo storico che il socialismo riformista ha avuto nel dopoguerra in Italia nell'anticipare ideali e nell'affermare politiche che oggi caratterizzano la moderna sinistra, soprattutto il crollo delle ideologie e dei regimi comunisti e dunque dedicare una via a Craxi, non vuol dire non essere critici nel suo operato, ma riconoscere il ruolo da protagonista e leader visionario con le sue convinzioni riformiste e la sua azione di partito e di governo in Italia. Ci hanno già pensato in provincia a San Costanzo e nelle Marche a San Telpidio a Mare. Dicevamo del Cassonetto invece, la cronaca di Fano registra questo episodio da parte di Balordi, di Ladri, alla ricerca di qualche spicciolo evidentemente perché poi alla fine hanno preso soltanto 170 euro del fondo cassa in questo assalto di notturno avvenuto in Via Roma i danni di un negozio di telefonia alla Vodafone, riconoscerete, qualcuno probabilmente riconoscerà la fotografia, i malviventi hanno lanciato questo cassonetto contro la vetrata della porta d'ingresso riuscendo ad entrare per rubare il registratore di cassa, appunto come dicevamo 170 euro. I migranti invece, dice il comune di Pesaro non li scrive all'anagrafe, linea dura dell'ufficio demografico che applica la lettera del decreto Salvini, noi adottiamo la legge e dice non la interpretiamo, alcuni giudici però, le sentenze sono un po' così, come detta Zizag, hanno imposto questa iscrizione, altri invece no. Pesaro a questo punto possiamo dire che sta con i secondi, cioè con coloro che non vogliono comunque iscrivere. mentre le mense a scuola, ecco la dieta sana, rispettate gusto e cucina locale, passatelli, insalata di finocchi, arance, oliva e torta di carota e questo è il menù speciale che verrà servito mercoledì, mercoledì nelle mense, in tutte le tavole di mense scolastiche dell'Azur Area Vasta 1, in particolare nei comuni di Pesaro, Fano Urbino, Gradare, Accordi del Metauro, Gabice Mare, Vallefoglia, saranno comunque garantite le eventuali diete speciali. Sono un menù speciale con un occhio alla tradizione che mercoledì prossimo verrà imbandito in tutte queste queste mense di cui abbiamo appena detto. Lo scoppio di Montecchio, ricordo di oltre delle oltre 30 vittime, l'appuntamento è per domani sera a Vallefoglia. Ragazzini restituiscono dei soldi e dunque sono da premiare, andiamo per un attimo vicino a Falconare, siamo a Castelferretti dove questi ragazzini hanno ricevuto i complimenti del sindaco Signorini quando questi ragazzini hanno riconsegnato questo portafoglio a Simone Mattei che vedete in questa fotografia. La mostra il suo portafoglio che ha ricevuto con dentro tutti i soldi, né un centesimo di più né un centesimo di meno grazie a questi ragazzi che appunto non ci hanno pensato due volte hanno subito riconsegnato quello che hanno trovato e quando il sindaco la signora che vedete in questa fotografia Signorini ha saputo di questi di questo gesto dentro c'erano 150 euro diverse carte di credito compreso il documento questi ragazzini sono andati subito dal proprietario per restituirglielo la mamma cosa dice di questi ragazzi hanno fatto ciò che dovevano contenta che non hanno esitato un attimo giustamente allora questa invece è la ciclovia di cui vi abbiamo parlato anche nel nostro telegiornale qualche sera fa il rendering chiaramente ancora non è stata realizzata ma così sarà più o meno la ciclovia adriatica verso il fiume Cesano che piace piace questa struttura ma crea qualche problema dibattito il cittadino a Senigallia sul doppio senso di marcia senza diventa un percorso prigione i 200 posti auto sul lungomare da qualche parte sono da recuperare sotto passo della Cesanella invece Senigallia finalmente aperta l'opera ultimata da diversi mesi ma non ancora transitabile e quindi è stato finalmente aperto un'opera che è iniziata nel 2018 era ultimata ormai da qualche mese ma per intoppi tecnici legati al collaudo non era ancora transitabile questa invece è la pagina del Corriere Adriatico di Vallefoglia lo scoppio di Montecchio l'orrore non si dimentica la comunità domani ricorda i 30 morti del 1944 e la distruzione della guerra è una ricorrenza storica importante per la comunità di Vallefoglia che verrà celebrata domani nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Montecchio dove si celebrerà la cerimonia commemorativa del 76esimo anniversario dello scoppio di Montecchio in ricordo delle oltre 30 vittime che perirono sotto i bombardamenti durante la seconda guerra mondiale Sgarbi va a Parigi per il ritratto di Castiglione a Urbino verrà il presidente Mattarella dice il critico d'arte tratta con il Louvre il prestito del capolavoro di Raffaello in cambio del dipinto la muta con la mia persuasione dice ancora 425 mila euro ad Urbino il futuro prosindaco snobba l'ex ministro Fioramonti ed elogia la mostra di Aufreiter con i quali non ha sempre avuto ottimi rapporti però adesso visto che non c'è più insomma un complimento non si nega a nessuno propongo un accordo dice ancora Sgarbi per conto del ministero sarebbe il pezzo forte della prossima mostra come abbiamo già detto Valle del Cesano Tari è partita la tariffa puntuale siamo a Terre Roveresche si paga in base ai rifiuti prodotti Terre Roveresche è il primo comune a implementare questa modalità equa è una tariffa puntuale si chiama nella raccolta differenziata a domicilio ha comportato un investimento di 60 mila euro con il diretto coinvolgimento della regione e Terre Roveresche è il primo comune della provincia se non della regione in merito vancano però ancora dati ufficiali però insomma dovrebbe essere il primo il 2020 vede in via il via ufficiale dopo un periodo di sperimentazione del nuovo metodo con l'utilizzo dei contenitori che sono dotati di microchip e di lettori applicati ai mezzi l'obiettivo con il ricorso anche di un'applicazione specifica è di concretizzare il progetto perché ogni cittadino paghi latari effettivamente in base a quanto produce di rifiuti cioè a quanti rifiuti conferisce nella discarica attraverso poi la raccolta differenziata dice il SIN quel servizio un servizio porta a porta che risale 2011 ma che adesso ha questa variazione che appunto è all'avanguardia insomma rispetto a quello che invece succede in tutti gli altri comuni dove uno paga una tassa appunto e stop anche se uno produce soltanto un fazzoletto di carta all'anno perché che ne so vive dall'altra parte ma la residenza è lì ebbene quella adesso si pagherà in maniera più democratica nuova ciclabile da piano marina al centro di Marotta il progetto sarà illustrato il 31 gennaio rievocato allo scalo Mondolfo Airfield e questo è il cartello che indica l'inizio dei lavori non voglio siamo nel Corriere della Romagna non voglio vincere ma stravincere dice Matteo Salvini che dà la carica ai leghisti in piazza pantani piadine cappelletti e fede cattolica stilettate a bonaccini e poi selfie e strette di mano non proprio un bagno di folla davanti alla pasticceria staccoli per il leader del carroccio arrivato nel cuore della regina a sostegno della candidata dell'Emilia Romagna la candidata Lucia Borgonzoni assente ma il popolo leghista non ci fa caso e ripete il rituale dei selfie dell'ascolto attento alle parole del loro capitano ecco qua la fotografia di Matteo Salvini a cattolica andiamo velocemente sulla pagina di Iesi invece fatale la passeggiata in bicicletta Paradisi muore davanti agli amici l'imprenditore di 60 anni si è accasciato per un malore lungo via Santa Caterina Stafolo purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare da fare se il cuore di questo imprenditore Iesino si è fermato intorno alle 10.30 del mattino sulle colline di Stafolo lungo la strettissima via Santa Caterina e gli amici dicono amava diffondere tante buone idee Pier Alisi mai lavorato con un altruista come lui Casoli uniti dalla passione per industria e ciclismo oggi è la direzione del Partito Democratico al bivio per le elezioni voto di primavera tappa fondamentale per la scelta del candidato governatore sul tavolo del confronto il Ceriscioli bis oppure il cambiamento e poi c'è anche un altro nodo quello delle primarie che ancora non è proprio sciolto del tutto e con questo chiudiamo qui la nostra segna stampa l'informazione torna questa sera alle 20.30 con l'intellegionale Occhio alla Notizia io vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo che questo eccolo qua è il numero di telefono per le vostre segnalazioni grazie per averci seguito buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti